Una sull'Iran, almeno una. Però, mentre siamo qui, è passata la riforma costituzionale, è soddisfatto? La riforma costituzionale segna un passaggio storico per l'Italia. Ci avevano raccontato che la politica non sarebbe stata in grado di decidere. E invece con questa riforma costituzionale, con questa scelta fatta dal Parlamento, con sei letture, con 174 sedute, con migliaia di votazioni, si è dimostrato che la democrazia vince, che la democrazia trionfa e si è dimostrato che si possono avere in Italia meno politici e una politica un po' più seria. Adesso toccherà, nel mese di ottobre, al referendum costituzionale dare la parola finale, però io sono molto contento perché l'Italia era il paese meno stabile d'Europa. Oggi è il paese più stabile d'Europa. Questo aiuta anche tutti noi, quando andiamo all'estero, aiuta le nostre aziende e aiuta la credibilità del sistema paese. Presidente, lei ha detto che è un momento storico, ovviamente, la riforma costituzionale che passa, è un momento storico anche con le opposizioni che escono dall'aula? Naturalmente le opposizioni sono libere di esprimere il loro giudizio. Io credo che sia una valutazione che vada rispettata. Qualcuno pensava che noi ci potessimo fermare e ha immaginato che uscendo dall'aula a quel punto noi ci saremmo dovuti bloccare, arrestare. Ma quando hai preso un impegno con gli italiani e con il Presidente, l'allora Presidente della Repubblica Napolitano, che rieleggendo, disse a tutti, che una volta rieletto, disse a tutti, adesso però si fanno delle riforme, dopo che per 30 anni queste riforme sono state soltanto discusse e mai realizzate, io penso che fosse una questione di serietà. Votare e vedere i numeri, e vedere chi aveva la maggioranza e chi no. Questa è la democrazia. Naturalmente adesso siamo tutti impegnati perché questa discussione possa andare avanti, mano tesa alle opposizioni, a tutte le opposizioni, per poter lavorare e collaborare insieme nel rispetto reciproco, ma deve essere chiaro che questo governo non si ferma, non è che se qualcuno pensa di bloccarci noi allora ci arrestiamo, anzi. Senta, non teme il rischio che il referendum di ottobre diventi un referendum su di lei e non sui contenuti della riforma? Siamo alla terza domanda sulle riforme costituzionali e naturalmente sono molto felice di questo. Ieri ho parlato per circa 40 minuti in aula su questo, esprimendo punto per punto gli argomenti per i quali il nostro governo è convinto dell'operazione delle riforme e non abbiamo nessun tipo di paura o di timore che il referendum costituzionale di ottobre sia personalizzato. I cittadini diranno, volete un Senato come quello di oggi, che vota la fiducia, che è un doppione della Camera, che dà indennità ai parlamentari, che dà alle regioni tanti poteri e degli stipendi che sono superiori non soltanto a quello del Presidente del Consiglio ma in alcuni casi al Presidente degli Stati Uniti d'America, perché ci sono alcune realtà regionali dove gli stipendi sono più alti di quelli americani. Bene, a fronte di questo, volete continuare con questo sistema o volete cambiare? Io credo che i cittadini voteranno per cambiare, però lo vedremo. Detto questo, il passaggio delle riforme costituzionali è davvero un passaggio storico e significativo anche perché non ci credeva nessuno. E quando abbiamo iniziato questa legislatura, mi ricordo i sorrisetti di quelli che dicevano figurati se andranno in porto. Sei letture, 174 sedute, migliaia di emendamenti. La politica ha dimostrato di saper riformare se stessa. Spero che questo spirito alimenti anche gli altri, che i sindacati sappiano riformare se stessi, che i dirigenti di questo paese sappiano riformare se stessi, che si possa ridurre il peso e il costo delle organizzazioni e delle infrastrutture burocratiche per essere più efficienti, più semplici, più vicini alla gente. Presidente, in Iran l'Italia può trovare un lavoro di primo piano, di primo piano economico? L'Iran è un grandissimo paese, è la prosecuzione della civiltà persiana, è uno degli straordinari punti di riferimento che ci sono nel mondo. Ovviamente noi non condividiamo sempre tutto come è ovvio che sia. Abbiamo discussioni aperte sui diritti umani, abbiamo discussioni aperte sul riconoscimento di Israele, abbiamo questioni aperte su tante pratiche e tanti dossier. Ma riconosciamo al popolo iraniano, al governo del presidente Rouhani, di aver impresso una svolta. Loro hanno fatto un accordo per bloccare il nucleare, la proliferazione di armi nucleari, loro hanno scelto di collaborare e loro possono essere un partner fondamentale dal punto di vista geopolitico per affermare la pace in questa martoriata area. Naturalmente questo apre anche degli spazi economici non banali. Oggi si è firmato un accordo perché si possa fare l'alta velocità con le ferrovie dello Stato italiano, acciaierie, lavoro sulle energie, anche le energie rinnovabili. E insomma ci sono molte opportunità di incontro e di confronto. L'ultimo presidente del Consiglio che venne qua era un italiano, dei paesi occidentali, l'ultimo capo di un governo occidentale che venne qua era un italiano, era Romano Prodi. I primi a tornare siamo stati noi. Segno evidente che tra l'amicizia iraniana e italiana, nell'amicizia iraniana si possono fare molte cose positive per portare finalmente quest'area del mondo a conoscere la parola pace e contemporaneamente, perché no, a creare occasioni di business. Perché diciamola tutta, l'Italia ha delle grandissime aziende che possono essere punti di riferimento nel mondo. Bisogna smettere di pensare che la globalizzazione sia una parolaccia. La globalizzazione è una grande opportunità e io spero di poter dare una mano a questi imprenditori per andare nella giusta direzione. Presidente, siamo in diretta anche su Rai News. Un'ultima domanda. L'Italia in Iran trova un alleato prezioso anche nel contrasto all'ISIS. Gli iraniani considerano Daesh il principale nemico che hanno. Questo è molto importante. Anche perché c'è una cultura molto superficiale che tende a far credere che tutti gli islamici siano dei terroristi. È una follia dire una cosa del genere. Ci sono un miliardo e mezzo di fedeli musulmani nel mondo e la grande maggioranza vuole vivere in pace. E i principali avversari di questi musulmani che vogliono vivere in pace sono esattamente i terroristi di Daesh. Gli estremisti fanatici religiosi. Noi dobbiamo combatterli senza pietà. Noi dobbiamo sradicare Daesh. Dobbiamo disintegrare Daesh dal punto di vista militare. Dobbiamo intervenire a tutti i livelli in quest'ottica. Ma dobbiamo anche avere l'intelligenza di fare le cose con una strategia. Ecco perché è fondamentale coinvolgere gli iraniani. Ecco perché è fondamentale coinvolgere l'alleanza più ampia di tutti. Ed ecco perché è stato molto intelligente che oggi il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni si sia recato a Tripoli. Primo dei capi di governo dei ministri degli esteri che si reca a Tripoli dopo la formazione del nuovo governo a incontrare Alzerraggi. Perché quello che bisogna evitare con tutte le nostre forze è che riaccada ciò che è avvenuto quattro anni fa, cinque anni fa. dove hanno fatto un pasticcio e l'hanno chiamato liberazione della Libia. Oggi le parole di Barack Obama in questo senso sono molto chiare. Quell'intervento fu sbagliato. Se si vuole ragionare in modo strategico in un'area bisogna avere un progetto a lunga scadenza. Noi con gli iraniani e con gli alleati dell'area siamo pronti a lavorare per ristabilire la pace e il dialogo nel Medio Oriente e nel Mediterraneo.